ciao mi chiamo vladimir ho 31 anni e faccio il portalettere il postino a torino una città del nord italia come tante colpite in maniera forte dall'emergenza del coronavirus il nostro lavoro quello del portalettere è considerato un servizio di pubblica utilità un servizio essenziale che non può essere fermato però ci sono stati diversi momenti dove affermarsi sono stati i lavoratori dall'inizio dell'emergenza del coronavirus si è iniziato a lamentarsi a protestare a discutere per la mancanza delle misure di sicurezza necessarie ci sono stati costretti a lavorare senza mascherine in alcuni uffici senza i guanti in altri uffici senza il gel igienizzante in altri uffici ancora senza che fosse stata portata avanti la sanificazione tutto questo malumore è esploso anche grazie all'esempio delle lotte degli operai di molte fabbriche che ci sono state qua in italia questo esempio ha fatto sì che successivamente anche nel nostro settore molti lavoratori si assenessero dal lavoro e si fermassero si sono fermati presentandosi al lavoro e dichiarando che per loro non essendoci le misure di sicurezza necessarie per loro era impossibile lavorare così chiaramente queste agitazioni stanno portando qualche risultato stanno continuando stanno andando avanti perché ancora la situazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle poste è complicata e chiaramente si inizia anche a denunciare il fatto che non tutto il lavoro che viene svolto da noi lavoratori delle poste è servizio pubblico essenziale quindi si sta chiedendo la limitazione del nostro lavoro a quello che è realmente il servizio pubblico essenziale chiaramente questo ha a che fare anche molto con i profitti della nostra azienda che invece cerca in tutti i modi di tutelare tutti quei prodotti dell'e-commerce, del commercio online, delle piattaforme di Amazon e degli altri che chiaramente sono molto remunerativi per l'azienda e che l'azienda non vuole che in nessun modo che subiscano uno stop per questo chiaramente le agitazioni sono continuate e hanno avuto un momento anche molto forte dopo la notizia della morte di due colleghi a Bergamo tutte e due costretti a lavorare fino a poco tempo fa per questo appunto adesso si è portato avanti anche un esposto scritto anche come potere al popolo che denuncia le condizioni di lavoro nel nostro settore e che chiaramente continua a chiedere la limitazione radicale del nostro lavoro a quello che è realmente servizio di pubblica utilità Grazie per aver guardato il nostro corso! Grazie per aver guardato il nostro corso!